Benvenuti a Malcicine per la Foily Week decima edizione E' molto importante per noi avere, anno dopo anno, l'ETF26 class, perché il bambino è una combinazione fantastica di velocità e tattiche. Benvenuti a Malcicine per la Foily. C'è un super spettacolo, naviguando nel mondo dei montaggi, è molto bello. Abbiamo fatto dei buoni trucchi al principio, siamo contenti di quanto riguarda il navigo, la manovra, la vitesse, quando abbiamo fatto un cap. Il faut restare in questa dinamica per il resto della settimana. Evidemment c'è sempre intensa e sempre serrata con gli altri concursi, ma è per questo che siamo qui. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Abbiamo la bagarre e quando si è finito, è ancora più pesante. Grazie.